Una prestazione di sacrificio cuore e orgoglio, forse il massimo che si poteva partorire dopo la settimana che ha vissuto il Barletta Calcio, avviata con le dimissioni dell'allenatore Ciro Ginestra dopo la maneta incassata in casa dal Martina, proseguita con i forti dissidi tra dirigenza e piazza al momento accantonati dopo la conferenza che sabato ha annunciato una revisione dell'organigramma societario con ruolo preeminente da ufficializzare per il main sponsor Michele Di Benedetto e conclusa con il pareggio di Fasano, 1-1 maturato dopo essere passati in vantaggio con Mari Lungo dopo due minuti su un'azione figlia della troppa sicurezza degli avversari in uscita e del buon pressing di Cafanni e compagni e con il pareggio dei padroni di casa prima della mezz'ora con Lo Savio. Il resto della partita ha mostrato una squadra portata a difendere il punto ma capace di rischiare in maniera netta solo all'ottantesimo quando Calabria ha spedito a lato da tre metri, nonostante la costante pressione e il maggior possesso palla del Fasano. Da Cristian Carbone, allenatore della Juniors, che ha guidato il gruppo in attesa dell'insediamento di Dino Bitetto, arriva un richiamo alle responsabilità collettive. Per quanto riguarda invece il Barletta e quello che sarà il futuro col mister Bitetto, ripeto, ci mettiamo tutti quanti a disposizione, vogliamo fare in modo che torni l'entusiasmo, che torni il Barletta che conosciamo e quindi sarà questo l'obiettivo. Però gradualmente prendiamo questo punto e adesso consapevolizziamo soprattutto quelle che sono le nostre forze. Le prime 16 giornate di campionato hanno portato in dote nello spogliatoio bianco-rosso 21 punti e la consapevolezza, stando così le cose, di non essere pronti per un campionato di vertice. Per questo la sfida casalinga di mercoledì al Puttilli contro Langri, formazione ferma a quota 17 dopo il K.O. con il Gallipoli, assume le sembianze di sfida spartiacque per tenere a debita a distanza la zona calda della classifica. La prima uscita ufficiale del Bitetto 2.0, allenatore scelto dal DS Marcello Pitino, sarà anche l'ultima sfida dell'anno solare del girone di andata. In attesa del calciomercato, almeno tre gli elementi sono dati in entrata, che dovrà riparare agli errori fatti in estate. In un contesto emergenziale, forze fresche possono arrivare anche dal settore giovanile. L'esordio del 2006, Bella Donna, gara in corso a Fasano, ha tracciato la via. Luca è un ragazzo come anche qualche altro, molto molto secondo me promettente, che cresce in maniera sana, che si è incanalato in un contesto giusto, con i piedi per terra. Peccato che oggi sia rimasto con il colpo in canna perché ha avuto una palla potenzialmente del 2 a 1. però dai, vuol dire che arriverà, arriverà per lui, arriverà per noi e ci sono, ripeto, anche tanti altri ragazzi che secondo me si affacceranno. Grazie a tutti.